1 novembre 1905 nasce l'attore Aldo Fabrizi rimasto orfano di padre a 11 anni per aiutare la numerosa famiglia è costretto a fare molti lavori nel 1942 debutta nel cinema macchiettista a inizio carriera con Roma città aperta del 1945 interpreta un ruolo drammatico vincitore di vari premi Fabrizi è anche sceneggiatore e regista Lulù oh e che ti fai fatto? devo fare annuncio? eh io mio beh è il mio collega scusi non prego Lulù tu non mi ami più come mai? non capisco tango slovo è piuttosto largo con tre battute d'aspetto e uno che va via io che sto a fare? pregantai muore il 2 aprile 1990 no troppo femminile a vor mio grande torre parte soffre grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.